Ciao cari amici, mi trovo in via Luigi Settembrini numero 26 a Palermo negli uffici dei partner indipendenti LR. Oggi parliamo di che cosa? Di bellezza, di bellezza. Immaginatevi la moglie che sta cercando a casa, tra lì il marito che si va a dare un'oddvano, dice amore guardami, sono stato in un centro di bellezza. Il marito ha la talia e gli dice chi è? Tu hai chiuso. Grazie a tutti.